buongiorno eccoci qua ancora insieme continuiamo allora con i tutorial su guitar pro 7 questa è la schermata a cui eravamo giunti l'ultima volta dopo la creazione della nostra prima traccia prima di iniziare a inserire le note e quindi a creare le nostre partiture è giusto capire imparare tutti gli strumenti che ci servono per fare il nostro lavoro per fare questo ovviamente dovremmo dare un'occhiata in questo tutorial di oggi un'occhiata diciamo globale poi scenderemo inserendo le note sempre più nel dettaglio ma è giusto cominciare a conoscere l'interfaccia utente che guitar pro ci mette a disposizione per spiegare meglio e presentare l'interfaccia utente aprirò un file di esempio in modo che avrò diciamo tante informazioni che in questa schermata attualmente non ci sono per farlo passo dal menu qua in alto a tendina faccio apri esempio e apro ad esempio questo hard rock ecco che mi si apre una partitura e dunque cominciamo a vedere come è strutturato questo programma possiamo dividerlo in quattro parti la parte qua in alto che è la barra degli strumenti con qui delle tab che rappresentano tutti i progetti su cui stiamo lavorando qua a sinistra abbiamo quella che si chiama barra di editing che è la principale diciamo fonte di lavoro nelle tab perché contiene tutti gli strumenti che ci servono per scrivere questa parte in mezzo è chiaramente il nostro luogo di lavoro la parte qua a destra si chiama inspector e ci permette di fare delle modifiche alle tracce e alle informazioni generali del brano mentre qua in basso vedete la global view cominciamo dalla barra degli strumenti la barra degli strumenti e adesso farò una carrellata veloce su tutti i pulsanti che troviamo calcolate che ogni volta che andate su un pulsante vi fermate un attimo compare un piccolo menu vedete che vi dice la funzione del tasto su cui avete puntato il mouse allora abbiamo questi tre pulsanti che servono per adattare lo schermo di lavoro a quello che in quel momento ci serve quindi possiamo per esempio nascondere la barra di sinistra nascondere la barra in basso nascondere la barra a destra oppure nasconderle tutte e tre e rimanere solo con lo spartito abbiamo lo zoom questa si chiama la vista pagina che ci dà la possibilità di scegliere la visualizzazione delle pagine vedete una pagina singola e scorrendo si scende nella partitura io per esempio uso sempre queste che sono le pagine affiancate nel caso ci fosse una terza pagina quindi andrebbe in basso a sinistra poi in basso a destra eccetera eccetera quindi questo gestisce la vista la vista del nostro spazio di lavoro questi sono i classici strumenti di annulla e ripeti stampa andiamo poi nella parte centrale dove abbiamo una zona di navigazione una finestra informativa la possibilità di attivare un loop quindi per imparare una parte particolare del nostro spartito noi potremmo attivare il loop e farla girare per fare i nostri esercizi qua abbiamo la possibilità di modificare la velocità relativa del progetto senza toccare la velocità dell'ufficiale della partitura quindi anche questo utilissimo per fare i nostri esercizi questa funzione che si chiama tonalità relativa è utile se ad esempio abbiamo uno strumento accordato in una maniera particolare quindi per esempio un semitono sotto e vogliamo suonare con il progetto aperto in questo momento possiamo dire al programma di suonare il progetto un semitono in più in meno un tono in più in meno per adeguarsi al nostro alla nostra accordatura dello strumento sulla destra invece abbiamo un manico virtuale che quindi ci permette di inserire poi nel nella partitura le note sfruttando il manico della chitarra la possibilità di inserire le note da una tastiera virtuale nel caso in cui stessimo creando delle partiture di batteria avremmo schiacciando su questo pulsantino la mappatura di tutti i suoni di batteria questo è l'accordatore quindi se noi abbiamo collegato lo strumento al programma tramite una scheda audio possiamo accordare direttamente il nostro strumento tramite questo accordatore mentre questa funzione è quella di cui vi avevo parlato nel precedente tutorial ci permette di entrare col suono del nostro strumento sempre tramite una scheda audio e utilizzare gli effetti che sono qui che ci mette a disposizione guitar pro abbiamo detto che il secondo la seconda parte degli strumenti che abbiamo a disposizione è questa barra sinistra che si chiama barra di editing allora questa barra di editing è molto importante perché appunto contiene tutto tutto il necessario per scrivere le nostre partiture ed è possiamo dividerla in alcune parti la prima parte questa qua in alto contiene la possibilità di aggiungere più voci separatamente al nostro spartito questa ci permette di avere una vista in questo caso non è settata ma potremmo avere per esempio una vista multipla sullo stesso spartito di pianoforte batteria e chitarra sempre sullo stesso spartito qua abbiamo il pulsante che ci permette di entrare nella modalità di impaginazione di cui poi parleremo dettagliatamente nel passare dei tutorial la gestione dei testi delle canzoni che ci interessa inserire la gestione degli accordi vedete che anche qua ogni volta che passo su un tasto mi esce un menu che mi dice di cosa si occupa questo tasto qua sotto abbiamo tutti gli strumenti relativi alle battute quindi tutto ciò che concerne l'impostazione delle battute quindi dalla tonalità, il tempo, la chiave sotto troveremo invece tutto ciò che concerne la scrittura delle note quindi tutte le possibili vedete anche qui basta fermarsi e si vede di cosa si sta parlando scendendo ancora abbiamo tutta la parte relative alle tecniche di esecuzioni ora sicuramente la maggior parte sono relative alla chitarra però chiaramente anche per me che sono al basso abbiamo gli hammer on, il pull off, lo slap, il tap, il pop in questo caso ci sono alcune di queste funzioni come qua che aprono a loro volta vedete dei menu su cui poi si può agire qua in basso invece abbiamo tutto ciò che riguarda la notazione quindi lo spartito mentre l'ultima parte qua in basso riguarda le automazioni sulla destra dicevamo troviamo invece l'inspector l'inspector ha due tab a cui fa riferimento una è relativa al brano quindi alle informazioni del brano schiacciando su espandi si aprono tante altre possibilità di informazione una parte relativa alla notazione musicale e una parte relativa all'effettistica del pezzo sapete che Guitar Pro come poi vedremo più avanti suona quello che noi scriviamo e come vi avevo detto ogni strumento può essere settato con particolari effetti ecco questa è la gestione del mastering cioè del master l'uscita di tutti che poi troviamo anche qui in basso vedete di tutti gli strumenti possiamo dare degli effetti per gestire il suono master di tutti gli strumenti di cui abbiamo scritto la partitura nella parte traccia invece abbiamo tutte le modifiche relative alla traccia che stiamo in quel momento editando quindi in questo caso stiamo editando è scritto qua in alto la chitarra distorta lo vediamo anche qua in basso quindi abbiamo praticamente quello che abbiamo prima visto nel wizard per creare una traccia tutte le stesse informazioni che possiamo modificare anche da qui possiamo gestire il suono come vi ricordate nel wizard iniziale gestiamo da qua anche tutta l'effettistica vedete che è stata associata a questo suono e addirittura possiamo dire al programma in che modo interpretare la nostra partitura quindi per esempio possiamo dirgli di suonare uno stile del plettro con le dita col peaking possiamo dare una percentuale di palm mute insomma possiamo gestire come vogliamo che Guitar Pro interpreti il nostro pezzo l'ultima parte invece è la global view cioè la vista generale che presenta una parte superiore una lista delle tracce che abbiamo scritto per questo progetto in questo caso abbiamo la chitarra distorta il basso guardate che adesso cliccando sul basso mi verrà fuori la partitura del basso mentre cliccando su batteria mi uscirà la partitura della batteria quindi qua seleziono la traccia che mi interessa vedere o editare ok possiamo mutare o mettere in solo la traccia durante la riproduzione il volume della traccia il master quindi l'uscita globale di tutto il pan ok con questo tasto se ci fossero delle automazioni di volume potremmo attivarle o disattivarle queste sono relative alle automazioni di pan e anche in questo caso se ci fossero potremmo attivarle e disattivarle la parte relativa all'equalizzazione quindi cliccando possiamo utilizzare o dei preset o agire noi sull'equalizzatore del suono che uscirà dal programma mentre questa parte rappresenta visivamente lo scorrere delle battute nel corso del nostro progetto quindi serve diciamo questo è un progetto piccolo ma se fosse lungo qua in basso abbiamo le sezioni che abbiamo creato all'interno del nostro progetto quindi per esempio potremmo spostarci nelle parti che ci interessano cliccando direttamente su queste sezioni ok se clicco qua per esempio mi sposterò la battuta 8 della traccia di basso vedete che sulla battuta 8 è andato a finire il nostro cursore bene questa è la nostra interfaccia di lavoro nei prossimi tutorial inizieremo a inserire le note e quindi ad analizzare in dettaglio ogni parte degli strumenti a disposizione come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare consigli richieste nei commenti a condividerlo sempre se vi è piaciuto e nel caso in cui vogliate supportare il mio lavoro ad iscrivervi al canale per oggi è tutto vi saluto ciao 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 ciao